Bene ragazzi, sono stato tipo mezz'ora per capire questa missione di Lisa e Bart che sono, vi faccio vedere, alla segheria zia Natura e in pratica dopo aver ucciso gli scagnozzi qui, diciamo i lavoratori che c'erano qua in questo cantiere mi dovevo avvicinare a questa statua, ma non capivo come far lievitare, far levitare o lievitare, non so come si dice Gli oggetti, in pratica dovevo avvicinarmi a questi oggetti, in pratica io mi avvicinavo qui, mi diceva di ruotare, ma non succedeva niente e poi ho capito che con R1 gli oggetti si potevano alzare da terra, ci ho messo tempo ragazzi, messo tempo, scusate l'ignoranza ignoranza, ignoranza, così, bene, dopodiché con Bart sicuramente dovremmo a sto punto saltare qui, ora che sono più alti andiamo con Bart, ok, dovremmo aprire la porta, benissimo, ragazzi comunque bentornati sul canale, sul canale bentornati con l'avventura dei Simpson, dei Simpson, con Bart Simpson, Lisa in questo caso quindi dobbiamo spaccare sto coso così, non appaiono più, sti minchionazzi bene, ok, ora dobbiamo capire come andare avanti, bene, 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 vediamo, vediamo, vediamo non so, io sparo qua, non so, provo a saltare qui, no, ok, vediamo, ok, c'è di nuovo Lisa, Lisa che può far lievitare la focaccia, può far lievitare, come si sale ora qua, come si sale qua, ok, devo salire forse da qua e mi devo lanciare probabilmente qua, quasi, oh, oh, sì, ok, facciamo lievitare gli oggetti, vediamo quali sono, attenzione, forse, forse è questo, sì, ma che devo fare, devo mettere qua, no, dove lo devo mettere, raga, dove cacchio devo mettere questo coso, dove, qua, ok, lo dovevo togliere soltanto, bene, 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 quindi vediamo, vediamo se con Bart probabilmente o, ah, c'era una scala qua, bene, c'era una scala, c'era una scala, con Bart, vediamo, ok, no, ok, aspetta, vediamo, dove devo andare con Bart, secondo voi, secondo voi, forse è qua, sì, bene, vediamo, 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 qua, dov'è Lisa, come la faccio salire, Lisa, questa da qua, ah, sì, vai Lisa, che ora puoi salire, brava, così, così, dai, che stiamo andando bene, stiamo andando, il microfono ce l'ho, sì, ok, vai Lisa, di andare là, bene, facciamo infigliare il suo coso, bene, 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 vai, si va, si va, si va, ma qual è, qual è, qual è, qual è, qual è il nesso della missione, oh, no, 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 vaffanculo, vai Lisa, pure tu devi sparare, però, va, fuori dalla foresta, oh, lame gigante, attenzione, che cresce da mezza sega, visualizzato collezione, bene, un'altra collezione, ok, attenzione qua, eh, what, oh, oh, che ci fa qualcosa laggiù, ah, no, sto tornando indietro, bene, dobbiamo cercare di sorpassare questo, sto percorso, anche se, anche se, posso scendere qua, posso scendere, scusa, visto che posso scendere, cosa posso fare di bello, non lo so, perché mi fa scendere qua, non lo so, proviamo da andare, ma guardate qua come si inca, no, raga, le telecamere è proprio numero uno, aspetta che forse posso spaccare sto coso, no, 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 raga, questo è impossibile, no, 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 no potevo saltare non potevo saltare ma che telecamera di cogliona allora io devo capire se posso saltare se così prima di tutto si che li posso saltare what? bene va bene attenzione oh no no devo correre come un dannato adesso no dove devo andare dove devo andare attenzione ah dovevo colpire sto attenzione ho bloccato tutto ho bloccato tutto così si fa così si fa andiamo avanti ma cosa fa Bart no 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 qua che telecamera è che telecamera è no 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 aiuto non c'è qui qua c'è una cosa un'altra leva è un bordello ok abbiamo bloccato qua niente è ora e ora è brutto non salta non salta non andava avanti non andava non andava avanti ve lo giuro raga non andava avanti non andava avanti raga ve lo giuro ok vai lisa dai a spingere sto costo attenzione si è bloccato tutto bene possiamo scendere ok ho il telecamere vediamo sti minchioni diventiamo forti forte intelligente non è che appaiono altri dobbiamo levitare ok dobbiamo levitare bene sì ok allora probabilmente dobbiamo prendere questo a metterlo qua no ho fatto cadere in testa no Bart attenzione qua ah siamo fortissimi ok possiamo andare no what ah sì ok ce la facciamo ma perché ci sono gli alberi davanti come fa uno a giocare come fa uno a giocare in questa maniera questo è Bart Bart è tornato allora falla anche tu sta strada vai è caduta è caduta lisa è caduta lisa è caduta è mo è mo ma no raga io non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio cosa devo fare tutto sto casino che cazzo niente non dovevo fare niente tutto sto casino non dovevo fare niente andiamo sti cosi ok quindi wow ma la telecamera ma resiste che si gira ah non ho capito perché lì dove sogniamo a salire là sopra per quale motivo dovevo salire là per quale motivo no secondo me c'è c'è un motivo ma credo perché dovevo prendere solo la cosa di crasti proviamo di nuovo a salire ok niente non si fa niente qua raga lo giuro ma qua c'è un taglio o sbaglio? bene siamo arrivati siamo bloccati ok lì si può andare a levitare sì ma proviamo sicuramente c'è qualcos'altro da fare vediamo fin dove si spinge questo giuco quindi dire che lo posso togliere di nuovo cosa devo prendere? cosa devo prendere? secondo voi la pietra? wow ma da là si può camminare raga scusami no non si può fare più niente mi sa com no mi sa di no ma questa strada? no non si può fare questa strada no e allora? come si fa? non mi dico che devo risalire da qua? no mi pare mi pare una cosa difficile adesso no siamo affogati ancora siamo affogati ancora allora riprendiamo lisa perché qua non si capisce onestamente vediamo se far levitare qualcos'altro no non c'è niente ci vuole evitare Bart scusami dov'è Bart? tu Bart Bart no può una pietra? una cosa? non ci credo raga non ci credo non ci credo non ci credo ragazzi non ci credo io a questo gioco vedo cose impossibili veramente che non la so a questo gioco deve essere molto intelligente cosa che non siamo sono caduti eh no mi sa che stanno per morire mi sa che stanno per morire questi ok andiamo avanti cosa è sto coso e lo so che odio il dolore fisico questo è sto coso attenzione amma mia andiamo a spaccare tutto anzi andiamo a spaccare subito quei cosi prima che arrivano altri che hai già spaccato bidone esplosivo bidone esplosivo ok cacchio oh cacchio qua è un problema adesso ok questo lo può prendere edisa e lo prendiamo dai eh lo so che sono uno di cinque ma sarebbe impossibile prendere oh what? ok vabbè questi dovevano scoppiare ma quindi attenzione oh no ok allora lisa arriva lisa dovrebbe levitare ancora vediamo cosa vediamo cosa eh? non mi dire che li devo mettere qua sopra non mi dire che li devo mettere qua sopra non c'è più niente da prendere no? vediamo che succede vediamo che succede dovrebbe scoppiare tutto dovrebbe scoppiare tutto si attenzione ah è apparso una cosa qua una molletta per andare sopra attenzione ok andiamo da qua usiamo lisa dai tocca a te lisa dai no è ok Bart dovrebbe fare sta cosa da qua dall'altra parte andiamo ok qua devo andare da solo bene attiviamo subito qua vediamo cosa finisce l'acqua finisce no spacca tutto ammazza 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 tutto aiuto aiuto no 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 bene stupidi ragazzini dov'è lisa dove dov'è lisa mori non muore ammazza bene ok non mi dite che devo saltare lisa lisa è dall'altra parte ancora lisa è dall'altra parte non posso fare niente qua non mi dite non mi dite non ci credo devo saltare devo tornare no 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 attenzione c'è un coso di crassi ma io devo andare da lì o da qui ok da qua forse ma una telecamera che fa schifo sto gioco c'è una telecamera proprio stupida devo fare il secondo salto non so perché devo fare il secondo salto per arrivare fin qua ma c'è il dito scemo fatemi capire ma non ho capito perché devo fare forse il secondo salto siamo vicinissimi è disconnessissimo questo gioco porco cane oh no 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 dove va ma fanno un po' schifo queste telecamere però eh te lo giuro ne che ce l'abbiamo fatta dai abbiamo capito ne ragazzi sto per cancellare sto gioco te lo giuro che non riesco ok ah ecco i cotrilli quando arrivano domani come fa a cadere da solo come fa vieni qua dove va ah attenzione dopo 35 ore sono riuscito quindi quindi no raga lo devo fare con Lisa non con Bart ve lo giuro sto gioco devo stare calmo altrimenti mi cazzo lo giuro dai si sbrighi come fai a cadere che ho saltato due volte ahhh 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 Comanditi una volta, mannagga Va a fangulo Va a fangulo Non mi dire che Lisa è rimasta là, oh Non mi cazzo Lisa, va a fangulo Però va a fangulo, eh La prima volta è morta, Lisa, bene Non fare due ore per iniziare È disconnesso, ragazzi Disconnesso Con questa telecamera è più facile, eh Attenzione 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 Ti trasformerò in concine Chi sono ancora questi? Uh Mamma mia come gira Altissima Come si fa ad andare sopra, no? Da qua? Attenzione, oh Si arrampica Lisa, brava Allora Cosa possiamo farla evitare Ora non saprei Vediamo Ah Se abbiamo tolto il pacchio Lo mettiamo qua Che ne dite? Poi Lo metto qua Ah Quindi Poi Che c'è più Questo Lo metto qua No Ammelo di nuovo Questa qua No No Sa cacchio combinato Forse qua Cosa diavolo Aspetta 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 Forse questo lo mettiamo qua No Lo rimettiamo qua Poi Questi L'altro Ma manco un pezzo Salvate me Lenny Il mio amico Carl Cosa del genere Non succederà Non l'ho capita Però Ok Non ho capito Cosa ho fatto Ma vabbè Cosa che devo fare? Devo salvare? Che devo fare? Qualcuno ci aiuti Ho una lezione Di cucina tailandese Stasera Lo so Lo so Dove devo venire Potrò mai sapere Cosa è successo A Claire e Ciannino Non so Bart Forse Sì infatti Sì infatti Sarebicato Le palle Eh non ce la faccio Ok 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 Sto camminando da qua Ma sei scemo Sì infatti Ma fa cadere Guarda non cammino Guarda 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 Vi dirò dove si trova il tesoro No stai calmo Non ce ne sono Non ce ne surte Non ce ne surte Lo blocco io 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 Ok ok Ah spero tu abbia raggiunto Un punto di salvataggio Amico Perché? 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 Ora non potrò mai sapere Cos'è successo a Clara e Charlie in Lost Perché ho lasciato che Lenny mi convince Sono morti Sono morti Sono morti Sono morti Ho messo troppo tempo Cammina Cammina Beh Deve salire Lisa Deve salire Lisa Dai Lisa Dai Lisa Dai Lisa Bravo Che cosa devo fare? Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Mi faccio lievitare? Sì Li ho salvati Li ho salvati Siete degli eroi? Sì Diremo a tutti Che siamo stati salvati da Ehm 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 Dai figli di Omer Che si chiamano Bart e Lisa Non posso credere Che abbiate scordato i nostri nomi Ci conoscete da una vita Ma Non è che pensiamo sempre a voi Tranquilli Tutto come Come se non fosse nulla accaduto Bene 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 ragazzi Ok Allora Dobbiamo continuare Ancora ci dice Vediamo Vediamo Da qua Emo Emo Sì Spacchiamo tutto Aspetta Attenzione Dovevamo fare centro Qui Ok Attenzione Ragazzi Dopo Non lo so Sto registrando da 27 minuti Vediamo cosa succede Ce l'abbiamo fatta finalmente Ce l'abbiamo fatta finalmente Boom Potresti optare per una carriera Con prospettive migliori Come la puericultura O il massaggio sportivo Ma è una vita che faccio il taglialigna Mio padre era un taglialigna E prima di lui suo padre era un taglialigna E prima Eh 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 sì Volevo solo distruggere il nostro delicato ecosistema E questo è il ringraziamento Mi spiace signor Voleva solo fare Una cosa da ricco Sì Mi piacerebbe Non ci credo Allora Tempo 40 minuti Ma la registrazione Dura Molto meno Perché mi ero bloccata all'inizio Non sapevo più come andare avanti Questo è perché Non gioco da tempo Come sapete Però Dobbiamo cercare di Di continuare E fare più Più livelli possibili Nel minor tempo possibile Però questo è sempre ragazzi Grazie a voi Se lasciate un like E un commento Prima di tutto Per rendere il canale più attivo E per sostenerlo Ma potete farlo Anche Iscrivendovi Iscrivendovi Quindi mi raccomando Ci vediamo a un prossimo video Sui Simpsons Il videogioco Let's go Grazie a tutti